Il Signore ci aiuti a benedire la nostra vita e il messaggio sono le parole di Padre Francesco Mazzotta, Rettore del Santuario del Santissimo Salvatore di Andria. Oggi, nel Sabato Santo, siamo chiamati a fermarci. Arriva dito, ascoltiamo. Meditando su questa morte, guardando questo sepolcro che è stato appena riempito, siamo chiamati a chiedere al Signore che ci aiuti davvero ad entrare nel luogo di questo riposo. Ma per farlo abbiamo bisogno davvero che il Signore ci aiuti a benedire la nostra vita, ci aiuti a fare pace con le situazioni che ce la complicano, ce la rendono difficile, ci aiuti a vedere il bicchiere mezzo pieno e non quello mezzo vuoto che ci angoscia continuamente. Non sarà la situazione ideale, non sarà la più bella del mondo, ma è la situazione nella quale il Signore mi ha messo. E se il Signore mi ha messo in questa situazione, vuol dire che io in questa situazione devo vivere in pienezza la mia vita, quella vita che mi è stata regalata, perché oggi io la viva come figlio. Tu sei mio figlio, dice un Salmo. Oggi ti ho generato. Oggi io devo vivere da figlio. Oggi devo ringraziare il Signore per il dono della mia vita e devo chiedere a Lui che io la possa vivere, portando avanti il suo progetto d'amore. Un progetto d'amore che mi mira a comportarmi come Lui si è comportato, cioè a dare la vita, a mettere la mia vita al servizio, perché gli altri, quelli che mi sono affidati, quelli che incontro, possono cacciare fuori il meglio di loro stessi. Questa è la logica dell'amore. Amare significa io voglio il bene di te, io voglio il tuo bene, voglio dedicare la mia vita per il tuo bene e ognuno di noi dovrebbe cercare di capire come possa realizzare questa cosa all'interno della sua quotidianità. Grazie. 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 Grazie.